ola 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 io sono max dei berro fronzo e adesso metterò l'alba perché io sono la divinità e quindi che che sia la luce d'accordo benvenuti in questa in questo video un po particolare dove non parlerò di gioco in sé per sé dove non si parlerà di minecraft dove non si parlerà di minecraft ma di un discorso un po serio e un po scomodo perché io mi trovo effettivamente a disagio a doverlo fare ma essendo come al solito la persona che in qualche modo ha più visibilità grazie signor marcus cron sempre siano dato tocca a me fare questo tipo di video il tipo di video che voglio fare oggi parlerà di soldi in particolare praticamente di donazioni per quanto riguarda il server vi ho già introdotto le cose a linee generali ma fatemi spiegare un po meglio allora soldi a che cazzo servono i soldi i soldi servono ad acquistare dei servizi cioè io quando vado a fare la spesa non è che tipo ciò nel portafoglio delle pecore che mi devo mettere prima nel portabagagli d'accordo in maniera tale da dare al cassiere si fa tutto quanto col denaro il denaro che noi prendiamo come stipendio per i nostri lavori che poi noi spendiamo per avere dei servizi e che la geek battery in questo senso praticamente utilizza mensilmente per poter affittare un server una macchina un computer dove poter giocare all'interno di minecraft minecraft non è un gioco semplice non è un gioco parco di requisiti ma è anzi avido di risorse quindi dato che noi siamo anche in tanti e siamo tutti quanti smanettoni perché geek è questo che significa abbiamo bisogno di un computer molto potente dove poter far girare tutte quante le nostre macchine e che sia dotato di un'ottima connessione per poter farci giocare fluidamente senza laggare il tutto logicamente per un discorso di io riesco a fare video ed ho un prodotto su youtube che alla gente può piacere leggendo le persone possono divertirsi tramite appunto questo cazzo di di server quindi avere un server che funziona bene e che che sia abbastanza potente è una cosa che a noi per primi serve d'accordo e conviene il fatto che cos'è che questo cazzo di server come detto prima dato che è una macchina potente d'accordo il server che noi utilizziamo costa e non costa neanche poco perché noi per darvi un termine d'accordo umano spendiamo come come gruppo praticamente dai 70 80 euro in su ogni mese non a testa ma insomma complessivamente per poter mantenere in affitto il server dove effettivamente giochiamo e tutti quanti questi soldi non è che ci cascano dal cielo o ce li da youtube perché gli unici personaggi che siamo che sono praticamente dotati di partnership all'interno di questo posto siamo io e carbancos e tra l'altro considerato anche il 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 rateo con cui noi facciamo video il fatto di ricevere soldi da youtube non è né una cosa automatica né una cosa facile da ottenere il fatto tra l'altro questo penso di poterlo dire anche se per contratto non non posso dire quant'è che guadagno ma il fatto di ricevere soldi non è una roba tipo tu hai un conto online che a volte ti trasferisci sulla paypal e quindi sei ricco è un casino d'accordo da prendere perché bisogna di un cedolino che lo devi stampare deve andare alle poste devi richiedere il denaro deve arrivarti dopo un sacco di tempo e cazzi vari d'accordo c'è un limite minimo di denaro da poter richiedere quindi non è che tipo se ti servono 10 euro puoi richiedere 10 euro ricevere 10 euro è un casino d'accordo questo per dirvi insomma i soldi che noi caghiamo ogni mese riusciamo effettivamente a raccimolarli tutti quanti insieme però è difficile d'accordo per ora per carità ce la siamo sempre cavata bene perché se a volte io non potevo mettere 10 euro riusciva a metterli il kimoto se non riusciva a metterli i jolly li metteva maba quindi in qualche modo ce la siamo sempre scavata ma più cresce il gruppo più crescono le insomma la richiesta economica di questo cazzo di server più per noi è difficile riuscire ad avere la possibilità di anche bello un villaggio lì in fondo la possibilità di avere questa macchina dove dove poter giocare tutti quanti insieme e di conseguenza per noi diventa difficile avere un posto dove poter fare i video che poi serviranno praticamente per essere messi su youtube alla fine per voi per il vostro divertimento per il vostro ludibrio è per questo che abbiamo praticamente istituito una piccola paypal un fondo monetario dove chiunque in maniera non anonima ma insomma con un nome sopra in maniera tale che noi sappiamo a chi dire grazie può mettere del denaro non ci sono limiti minimi non c'è un diciamo così una richiesta obbligatoria non c'è assolutamente niente quindi chi vuole li mette chi non vuole no e non c'è nessun cazzo di problema perché se siamo andati avanti fino oggi non è che tipo adesso dipendiamo da questa cosa qua ma ci fa sicuramente piacere dove appunto dicevo ognuno può mettere una somma di denaro che può essere un euro due euro cinque euro dieci euro logicamente meglio è cioè più soldi naturalmente arrivano da voi altri siete in 8000 immagino spero penso può essere che tra 8000 persone ce ne sia uno che ha vinto alla lotteria 250 euro non sa cosa cazzo farsene di tutti quanti 250 ne spende 249 in trans nella tiburtina e uno decide a metterlo sul server d'accordo se effettivamente questa persona esiste noi ci troviamo con un euro in meno da pagare all'interno di questa cosa qua ovviamente questo aiuto è una cosa che ci fa piacere e che noi avevamo intenzione di diciamo così remunerare in qualche modo perché se noi abbiamo questo questo aiuto è chiaro che noi dobbiamo dire grazie alla persona che ha dato questo aiuto perché porca puttana ci mancherebbe quindi per cui è in fase di discussione anche all'interno della geek battery ma logicamente se voi avete un qualche tipo di idea che potrebbe esservi di 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 no di aiuto ma di come si dice che potrebbe farvi piacere ditecela pure un qualche tipo insomma di ringraziamento visivo che qua dentro i ragazzi della geek battery potrebbero allestire all'interno del server che potrebbe essere una costruzione inviata ci da un da un partecipante la statua con la statuese della persona che ci ha inviato i soldi una specie di all of fame ovviamente questa cosa non è una competizione e per lo stesso motivo è impossibile assicurare una persona siamo così accessi al server corrispondenti a soldi cioè noi non possiamo fare una roba del tipo ci pagate allora venite a giocare con noi sarebbe bello poterlo fare ma c'è il drawback c'è il diciamo così la variabile negativa del fatto che se noi facciamo così potrebbe esserci una persona che andiamo nel caso opposto ha talmente tanti soldi che gli escono fuori dal buco del culo della non sapere cosa farli e praticamente ci quasi mantiene il server d'accordo per per questa cosa qua logicamente noi non è che possiamo praticamente dare l'accesso a chiunque a pagamento perché 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 è una merda ragazzi andiamo non è che io tipo posso dare l'accesso al nostro gruppo perché una persona paga fa schifo d'accordo perché magari ci sono persone che ci seguono da un sacco di tempo che vorrebbero partecipare da secoli ma per un motivo per l'altro non ce lo possono fare e dato che non c'hanno i soldi non 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 entrano mentre magari qualcuno che ha raggiunto ieri il gruppo ma che ha tanti soldi allora entra no non si può fare questa cosa qua vi renderete conto che è una cosa ingiusta non meritocratica che non ci sta niente non in terra però insomma se c'è un qualche tipo di ricompensa che noi possiamo mettere all'interno del server magari appunto comunicateci che sicuramente la mia fantasia può venire diciamo così annichilita e annientata e superata da tutti quanti i vostri suggerimenti fatemelo sapere nei commenti in ogni caso all'interno della descrizione quindi da oggi c'è una cazzo di iconetta un cazzo di indirizzo nel quale voi altri potete mettere soldi logicamente ogni tipo di transazione verrà registrata e adesso vi farò vedere vi adesso vi spiegherò probabilmente in un video successivo come fare per remunerare per ringraziare le persone tutte quante le donazioni verranno rese pubblica all'interno del nostro server probabilmente con un qualche cosa appunto divisivo in maniera tale che se io vado a casa di vimbor per fotogli materiali ci passo davanti e un utente che non ha non ha mai visto praticamente la geek butter in vita sua vede caspita però effettivamente se tu metti la tua come si dice se metti praticamente parte del tuo denaro per questo tipo di progetto cristo santo sto schifo di pioggia o grazie effettivamente hai un richiamo visivo e fai in qualche modo un po' parte di questo di questo gruppo di scalcagnati imbecilli che è appunto la geek battery questo qua è un video che io non avrei mai voluto fare perché a me chiedere soldi a delle persone sconosciute fa schifo a me dispiace non lo farei mai per un a meno che non si tratti praticamente di estrema necessità ovviamente se io avessi cazzo ne so la sorella che mi muore dissanguata e avessi bisogno porca potana di un intervento costosissimo non c'è soldi allora se passa un miliardario per strada gli dico scusi mica ciao due spicci allo stesso modo noi altri che siamo delle persone comuni delle persone qualunque che abbiamo alcuni un lavoro ma anche altri no e che riescono a volte a mettere dei soldi ma comunque fare una certa fatica se ci arrivano ovviamente qualche qualche se ci arriva qualche euro da qualche persona che magari c'è molto affezionata logicamente non può farci che piacere logicamente se in futuro praticamente se arrivasse dico al diciamo così in caso assolutamente limite se ci arrivassero più soldi quelli di cui noi abbiamo bisogno per poca cazzo sto guardando lì di quello di cui noi abbiamo bisogno per mantenere il server è normale che questo cazzo ne è quinsa che questa qua è il modo di mob per dire questa è casa mia ovviamente noi non esiteremo a utilizzare questo tipo di risorse per un qualunque cosa che non sia correlato direttamente al server potremmo utilizzarlo logicamente per ampliare il nostro parco hardware lo potremmo utilizzare in maniera tale da potervi dare che cazzo ne so video migliori per prendere la telecamera che non ci faccia vedere squadrettati e fare dei vlog potremmo istituire dei pre dei tornei praticamente che cazzo ne so giochiamo super smash bros brawl chi vince si prende una coppia di minecraft e cazzo ne so io potremmo fare una roba del genere cioè non lo so neanche io è un discorso in fieri però la prima il primo passo è stato quello là di creare questo account della della paypal dove si possono dare soldi il secondo è stato quello di fare questo video che possa dire a tutti quanti ragazzi siamo degli straccioni di merda ma se non tutti voi lo siete magari ci dato una manina che schifo assolutamente non fa io penso di non aver null'altro da dire mi scuso se con questo video sono stato eccessivamente prolisso ma ci tenevo a spiegare tutto quanto bene nei minimi dettagli e le motivazioni per le quali insomma io ho fatto questo tipo di video a nome della geek battery spero e chiedo scusa al signor jolly se sono stato poco preciso di non aver tralasciato nessun tipo di particolare e vi invito anche a guardare i commenti perché se io mi sono dimenticato qualcosa e se magari c'è qualcuno che della geek battery che vuole fare qualche tipo di precisazione logicamente io non esiterò a dare visibilità a questo commento con qualche tipo di spolliciata o che cazzo ne so io in maniera tale che praticamente tutti quanti possano leggere questa cosa qua indi per cui siate diciamo così prolifici nei commenti per darci qualche tipo di suggerimento su come dare una visibilità alle persone che decidono nella loro bontà di darci una mano di nuovo vi chiedo scusa se io vi sto chiedendo dei soldi e di nuovo ripeto non c'è nessun tipo di obbligo non c'è nessun tipo di drawback d'accordo negativo per questa cosa se vi va date i soldi altrimenti non importa d'accordo non c'è nessun problema troveremo la maniera per cavarcela lo stesso e io direi che non ho nient'altro a dire e considerato appunto che non l'altro è rimasto a dire da uno straccionissimo max dei berno fronzo portavoce ufficiale della geek battery che si è stufato che ci sia sempre note e quindi mette il giorno no il giorno adios a todos